Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del Tg6 in apertura, un'altra giornata caratterizzata dagli incendi nella nostra regione e soprattutto nel Pescarese. Un incendio di sterpaglie di sottobosco è in corso ad Alanno, vigili del fuoco a lavoro da ieri sera anche a Carpineto della Nora e Bolognano nella località di Piano d'Orta. Un bilancio dell'emergenza incendi davvero pesante, sono oltre mille gli ettari andati in fumo in questa estate, davvero torri da intere porzioni di territorio montano, bruciate per colpa soprattutto dell'uomo. Intanto l'argomento incendi agita le polemiche con l'ordine degli agronomi che invita la regione ad un ripensamento della direzione agricoltura, il servizio di Noemi Letizia. Negli ultimi dieci giorni in Abruzzo sono andati distrutti mille ettari di territorio, di cui 300 di bosco. Ormai da giorni prosegue senza sosta l'attività della protezione civile, dei vigili del fuoco e dei volontari. Sui vari focolai sparsi sul territorio regionale sono 600 gli uomini impiegati in turni 24 ore su 24. L'ultimo report diffuso dal sottosegretario dell'Aggiunta regionale con delega alla protezione civile Mario Mazzocca parla di un rogo nella Marsica, domato nella giornata di ieri, che ha impiegato un Canadair e sette organizzazioni di volontariato tra Colle Lungo e Trasacco, mentre nel Pescarese persistono le difficoltà nella zona di Farindola, sul Monte Siella, nonostante l'impiego di un Canadair e 25 volontari. Nell'Aquilano invece risulta un incendio attivo nella zona di Preturo e la ripresa dell'incendio in località Aragno, dove sono presenti diverse associazioni di volontariato della protezione civile. Infine nel Terramano si segnala un incendio in zona Macchia del Sole, frazione di Valle Castellana, dove sono state inviate alcune squadre di volontari a supporto dei vigili del fuoco. Nonostante la regione Abruzzo abbia firmato due convenzioni con i vigili del fuoco e carabinieri forestali, con l'impiego di oltre 100 volontari al giorno di protezione civile per contrastare gli incendi boschivi, il coordinatore regionale dei vigili del fuoco della CGL Funzione Pubblica Antonio Salvatori mette in evidenza come l'abolizione del corpo forestale abbia causato diversi problemi, a partire dalla riduzione delle forze in campo a livello nazionale per contrastare gli incendi in una delle state più calde e secche di sempre. Sebbene protezione civile, vigili del fuoco e volontari conducano con mano sapiente le operazioni per garantire la sicurezza, Mazzocca fa notare come ci sia bisogno di un cambiamento profondo che parta dalle forze sociali fino ai singoli individui per la tutela e la conservazione del territorio. Mentre la Fondazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali sollecita la regione a riorganizzare la direzione dell'agricoltura, con funzionari competenti, con un regolamento più agile, con una pianificazione definitiva e un efficiente piano di sviluppo per un Abruzzo che sta perdendo il titolo di Regione Verde d'Europa. Nascondeva in casa un revolver Smith & Wesson calibro .44 Magnum di cui era stato denunciato il furto qualche giorno fa. I carabinieri del nucleo investigativo di Teramo hanno denunciato in stato di libertà un 37enne albanese, la pistola, vari fucili e munizioni, nonché una piccola cassaforte contenente loro di famiglia, erano stati rubati in un'abitazione di Civitella del Tronto. I militari hanno trovato l'arma in un armadio di proprietà dell'albanese, avvolto in una coperta e chiusa all'interno della custodia. Le successive indagini hanno consentito di trovare abbandonate in località le cave di Civitella tutta la refurtiva composta da 6 fucili, oltre 100 cartucce di vario calibro e la cassaforte con l'oro. I preziosi sono stati restituiti alla vittima, le armi invece dovranno essere sottoposte ad ulteriori analisi, poi saranno rese al legittimo proprietario. Prosegue con l'ondata di caldo anche l'assedio ai pronto soccorso degli ospedali d'Abruzzo. L'assessore alla sanità Silvio Paolucci però sottolinea come in regione non ci siano state grandissime criticità, nonostante l'AFA che ha avvolto la nostra regione e il nostro territorio. Sentiamo l'intervista realizzata da Paolo Renzetti. Assessore Paolucci, da settimane ormai anche l'Abruzzo è immerso in preda al Gran Caldo, pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, ma non solo quello del Santo Spirito, presi letteralmente d'assalto dai pazienti, dai degenti. Come stanno reagendo gli ospedali abruzzesi? Complessivamente gli ospedali abruzzesi non mi sembra siano assorti a cronache nazionali di qualsiasi tipo di grave disservizio che meriti. Quindi da questo punto di vista non voglio tanto ragionare su questo, ma quanto al contrario sul fatto che mi attendo che le ASL gestiscano la rete assistenziale dei pronti soccorso nei 15 giorni poi prevalenti in cui ci sono una serie di problemi legati sia al caldo e sia evidentemente anche ai diversi ambulatori chiusi anche per ferie in modo più adeguato. Hanno gli accordi da dover sottoscrivere con i medici di medicina generale, le AFT, le UCCP, hanno quegli ambulatori che possono mettere in campo libera discrezionalità sulle guardie turistiche. Mi aspetto che i ricoveri cosiddetti impropri, cioè i codici verdi e i codici bianchi, non vadano a sovraffollare in un momento così caldo il pronto soccorso. Da questo punto di vista sono le ASL, ovvero chi gestisce, che deve far fronte, perché sa che ogni anno dal 10 al 20 di agosto può accadere questo. Al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara negli ultimi giorni ci sono stati però problemi con un'affluenza record di pazienti. Sì, mi pare che il primario abbia fatto anche appello dicendo che è per i ricoveri che noi chiamiamo tecnicamente impropri, ma che sono, come dicevo, quei codici bianchi e verdi che vanno lì a fare una lunga fila, tutto sommato inutilmente, di poter gestire le situazioni di più sulla medicina territoriale. Parliamo ancora di sanità. Nuove misure per l'assistenza alle persone autistiche sono state presentate in regione assieme alla nuova rete regionale dei servizi per i disturbi sull'autismo. Sentiamo. Dopo 20 anni in Abruzzo nasce una nuova rete per la cura dell'autismo. Certo, è una delibera programmatoria estremamente importante perché l'Abruzzo può collocarsi in questo modo tra le prime 5-6 regioni italiane che hanno recepito la legge dello Stato, la 134, che chiede alle regioni una riorganizzazione della rete dei servizi per l'autismo. Noi siamo molto soddisfatti perché è stato un lavoro importante che è stato fatto e in questo ringrazio pubblicamente le associazioni dei familiari per l'autismo, le associazioni Onlus, le fondazioni che da anni operano nella nostra regione, spesso con volontarismo. Ora invece a partire da oggi si può mettere a sistema tutta una rete articolata di servizi per le persone con disturbi dell'autismo di qualsiasi età dall'infanzia sino all'età adulta e quindi è un passaggio estremamente importante per la nostra regione e è migliorata la diagnosi e quindi ciò che prima era una malattia sconosciuta adesso invece è inquadrata sul piano di una diagnosi più sicura, più certa, più precisa. I numeri nella nostra regione in base ad alcuni studi recenti ci dicono di una prevalenza dello 0,74 per mille e quindi di oltre mille bambini e adolescenti che possono avere bisogno di assistenza per questi disturbi. Adesso ci spostiamo alla direzione marittima di Pescara per andare a vedere assieme l'iniziativa della società italiana di salvamento denominata papà ti salvo io in calo intanto i numeri delle morti in mare. Si parla di salvamento, si parla di attività in mare, per la sicurezza in mare come sta andando quest'estate? Troppe situazioni si sono venute a determinare per un atteggiamento imprudente un atteggiamento legato alla sopravvalutazione delle proprie forze una contestuale sottovalutazione delle condizioni del mare e questo è una cosa che fa riflettere perché fare il bagno con la bandiera rossa fare il bagno quando il bagnino magari ti fischia invitandoti non dico ad uscire ma a un atteggiamento più prudente e invece recarsi oltre la scogliera o in vicinanza della scogliera dove si vengano a creare o delle risacche che ti sbattono sugli scogli o degli effetti venturi chiamiamoli così che ti risucchiano al di là della scogliera verso il mare aperto è evidente che questo sta a significare che c'è un atteggiamento sbagliato all'origine innanzitutto di studiare dove avvengono queste cose se avvengono oltre gli scogli all'interno di una scogliera perché avvengono ed eventualmente insieme alle amministrazioni comunali insieme alle cooperative che si occupano di salvataggio individuare le soluzioni che possono scongiurare questi pericoli per esempio laddove ci fosse una scogliera in vicinanza della quale si vengano a creare degli effetti venturi molto forti, molto accentuati il rimedio potrebbe essere, l'abbiamo già sperimentato altrove in Italia ma l'abbiamo sperimentato adesso anche in Abruzzo mettere dei capitelli collegati tra loro con una sagola tarrozzata per fare in modo che chi non dovesse riuscire a vincere la forza del mare possa appendersi, possa sostenersi a questa sagola aspettando che arrivino i soccorsi i soccorsi che in questo caso verrebbero svolte in maniera più sicura perché non c'è la concitazione del fare presto ecco fare presto sì ma non correre dei rischi eccessivi Al via l'accordo di programma tra i comuni di Campli e di Bellanti in provincia di Teramo per la manutenzione straordinaria della strada Salinello che collega i due territori sentiamo L'intervento che abbiamo messo in atto tra i due comuni consiste essenzialmente nella depolverizzazione di un tratto di strada che è denominato via Salinello e insiste su dei territori, cosiddette frazioni minori un po' limitrofe quindi esterne al centro abitato di Bellanti ed è una strada caratterizzata dalla presenza contemporanea di due comuni è un'opera secondo me che va a recuperare un territorio che da anni ha sofferto di spopolamento soprattutto e di operamento perché non sono stati fatti interventi mirati al recupero di questi borghi è un'opera che va a migliorare la viabilità e insiste su un territorio in cui questa viabilità rappresenta soprattutto una via strategica in caso di calamità naturale Non accade tutti i giorni che due comuni riescano a gestire un intervento così e sono davvero soddisfatto del fatto che con il comune di Campli e con l'amico Pietro Quaresimale il sindaco Pietro Quaresimale si sia instaurato questo rapporto che ci ha portato a questo risultato E oggi mettere in sinergia comunque amministrazioni comunali non è semplice devo dire che con gli amici di Bellante siamo riusciti a creare le basi e i presupposti per poter fare un intervento assolutamente necessario per le collettività di Villa Penna, Floriano e non solo perché quella è una strada trafficata anche da tanti altri e devo dire che è un intervento assolutamente necessario che ha avuto anche un piccolo incidente in settimana che va a confermare assolutamente l'urgenza dell'intervento Cambiamo provincia, ci spostiamo in quella di Chieti dopo il restauro l'opera dello scultore lancenese Vito Pancella il Cristo degli Abissi torna a riposare a sei metri di profondità nelle acque di Rocca San Giovanni seguiamo la cerimonia che ha riaccompagnato la stauta in fondo al mare Fiaccole, subacquei, processione e devozione una magica serata quella di Vallevò in località Porticciolo a Rocca San Giovanni con la processione e la pose in acqua del Cristo degli Abissi sul basamento di cemento a sei metri di profondità per mano degli esperti subacquei dell'orsa minore sub di Lanciano ma in tantissimi hanno voluto accompagnare in Cristo dalla riva ad acque più profonde la statua del Cristo, creata dallo scultore lancenese Vito Pancella protegge pescatori, marinai e viandanti del mare e recentemente è stata oggetto di specifici lavori di pulizia e restauro dopo 23 anni in mare punto di riferimento per tutti gli appassionati del blu e dei credenti il Cristo degli Abissi, sguardo rivolto in alto e braccia aperte in segno di benedizione e accoglienza nell'estate del 1994 fu inabissato proprio nelle acque di Vallevò una copia identica della statua e collocata a terra nei pressi del porticciolo una serata magica e carica di simboli che ha ribadito l'antico e stretto legame dell'Abruzzo costiero col suo mare e soprattutto col suo Cristo e adesso andiamo a Francavilla dove oltre 6.000 persone ieri sera hanno assistito al concerto di Renzo Arbore per la prima serata del Blue Bar Festival 2017 un concerto coinvolgente e caloroso come la musica dell'orchestra italiana che accompagna Renzo Arbore la tradizione delle melodie napoletane che evocano il sole, le gioie, le pene d'amore sono state accompagnate dai cori passionali e dalle influenze musicali jazz e blues un'orchestra appassionante, uno showman unico hanno portato la musicalità italiana e la forza delle passioni della tradizione napoletana in tutto il mondo e ieri per l'occasione anche a Francavilla Arbore che è riconosciuto come l'autentico ambasciatore della musica e della cultura italiana nel mondo Continuiamo con gli eventi ci spostiamo all'Aquila dove la perdonanza è alle porte e non mancano le novità ci sarà infatti la prima edizione del Fuoco del Morrone in Festival per dare il via alla 723esima perdonanza celestiniana il servizio è della redazione aquilana accompagnata dal teatro, musica e tanta festa prende al via il 16 agosto prossimo la 38esima edizione del Fuoco del Morrone che da quest'anno diventa Fuoco del Morrone in Festival per la prima volta la staffetta che da Sulmona all'Aquila porta alla fiaccolata della pace nel nome di Celestino V organizzata come ogni anno dal Movimento Celestiniano dell'Aquila nell'ambito della perdonanza celestiniana acquista una nuova veste grazie ad alcuni eventi che si terranno nelle principali tappe attraversate a Dacciano, Villa Sant'Angelo, Castelvecchio Subbeco, Bagnaturo e naturalmente Sulmona e l'Aquila l'arrivo del Fuoco del Morrone sarà anche l'occasione per offrire ai partecipanti un momento di meditazione ed entrare nel clima della perdonanza celestiniana quest'anno inoltre il Fuoco del Morrone in Festival torna a far vivere l'antico cammino del perdono sui passi di Celestino un'esperienza di cammino a piedi aperta a tutti durante la quale poter scoprire passo dopo passo i luoghi più belli e nascosti dell'Abruzzo interno nonché fare esperienza di amicizia con i pellegrini in viaggio lungo analoghi percorsi di fede e spiritualità come il cammino di Francesco Farindola ospiterà la edizione di Pecorino e Pecorini un evento ormai tradizionale che vuole essere sempre più vetrina delle eccellenze enogastronomiche locali La rinascita di Farindola e di Rigopiano ferite a morte dalla valanga dello scorso 18 gennaio e che causò 29 vittime dagli incendi che stanno interessando da giorni anche le versante pescarese del Gran Sasso passano per iniziative territoriali che vogliono propagandare le eccellenze del territorio nell'ottica di un rilancio dell'intero comprensorio e il caso di Pecorino e Pecorini rassegna enogastronomica che quest'anno tocca il decennale e immerge nuovamente Farindola in tre serate dall'11 al 13 di agosto di gusto e delizia Abbiamo caratterizzato il paese con dei punti in più rispetto agli anni scorsi quindi si troveranno ulteriori degustazioni con prodotti nuovi e soprattutto con la caratteristica riedizione del viaggio del formaggio che quest'anno verrà svolta con una nota nuova Sono 23 cantine abruzzesi che propongono lo pecorino ci sono 7 produttori di formaggio pecorino di Farindola oltre a eccellenze come il cioccolato di Centini di Bisenti artigiano del maestro del cioccolato e miele, olio e altre realtà culinarie abruzzesi tipiche della nostra zona E questo fine settimana torna la venticinquesima sagra della bruschetta a Tozzanella di Tossicia, le pendici del Gran Sasso un'occasione unica per gustare le bruschette abruzzesi doc proposte in tutte le salse con semplice olio, pomodoro, ventricine insomma con tutte le piccole delizie che soffrire il territorio il tutto accompagnato ovviamente dai vini del territorio e dalle birre e anche artigianali Come tutti gli anni viene riproposta questa sagra della bruschetta che è una delle più affollate è organizzata bene dagli amici di Tozzanella noi come amministrazione nel tempo abbiamo messo a disposizione dei locali abbiamo creato i presupposti per un'ottima riuscita Oltre quindi alla sagra organizziamo anche una gara di pittura estemporanea la diciannovesima edizione abbiamo il sabato una cover band dedicata comunque al repertorio di Celentano domenica invece un musica folk con un revival anni 70-80-90 Qual è l'obiettivo che vi siete prefissati quest'anno per il 25esimo anno dell'iniziativa? Noi come tutti gli anni con la sagra della bruschetta che comunque è un prodotto diciamo può sembrare banale come prodotto poi in realtà ha un valore qualitativo perché noi diciamo proponiamo quindi facciamo conoscere valorizziamo i prodotti del territorio quindi il pane cotto in forno a legna, l'olio, la salsiccia, la lenticina, il tartufo, il formaggio e quindi questo sicuramente c'è un aspetto qualitativo insomma dell'iniziativa tant'è vero che nel 2015 la sagra della bruschetta è stata selezionata da un'iniziativa del Codacons in collaborazione con Autostate per l'Italia e la Col Diretti a far parte quindi di un concorso Italiaio 2015 che selezionava comunque tutte le iniziative che proponeva comunque delle eccellenze gastronomiche Ed ora apriamo la pagina dello sport iniziamo dal Pescara dopo l'asse Benali Sampdoria si scalda anche quello Memushai Berevento sono ore decisive per il Pescara al fine di piazzare delle cessioni importanti in ottica mercato intanto sul difensore Fornasia e Piombala Ternana che contende il giocatore all'ascoli l'ex tecnico dei Biancazzurri Massimo Oddo invece potrebbe trovare sistemazione a Brescia con l'avvento della neoproprietà targata Massimo Cellino Allora andiamo a seguire insieme il servizio di Andrea Costantini Massimo Oddo potrebbe trovare a breve una panchina per questa stagione curiosamente proprio con la squadra che dopo domani sarà sfidata dal Pescara in Team Cup il Brescia per le rondinelle queste sono state ore decisive per il passaggio della società dal patrono uscente Marco Bonometti a Massimo Cellino ex presidente del Cagliari passaggio che si è concretizzato nell'ultima notte con la nuova proprietà potrebbe esserci un rinnovo dello staff tecnico e Roberto Boscaglia richiamato quest'anno alla guida del Brescia dopo la parentesi di Novara rischia di essere avvicendato dall'ex allenatore del Delfino difficile che questo avvenga prima del match di Team Cup magari potrebbe avvenire nelle giornate successive un processo che sarebbe accelerato in caso di vittoria del Pescara o comunque di prova non eccelsa dei Lombardi prima di un eventuale nuovo incarico Oddo dovrà comunque rescindere il contratto che lo lega al Delfino fino a giugno 2019 intanto il Pescara continua a lavorare con la seduta mattutina odierna e l'amichevole in serata a Pineto a Brescia non ci sarà ancora Leonardo Mancuso che al pari di Bruno sta facendo terapie da valutare Zampano che ieri si è fermato per affaticamento muscolare al Rigamonti potrebbero nuovamente mancare come avvenuto con la Triestina quei giocatori al centro di trattative di mercato in uscita in particolare Ben Ali, Biraghi e Memushai il giocatore anglo-libico sta per legarsi alla Sampdoria e attende ulteriori sviluppi dalla vicenda Schick col centravanti cieco che sta riottenendo l'idoneità e a breve potrebbe chiudersi la trattativa per la sua cessione all'Inter il che agevolerà quella di Ben Ali al club di Ferrero in prestito con diritto di riscatto si fa invece caldissimo l'asse Benevento-Memushai gli stregoni neopromossi in A sono vicinissimi a chiudere l'accordo col Pescara con un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza più defilato ora il Sion su Biraghi, oltre al Cagliari ha effettuato un sondaggio anche il Sassuolo che già nelle settimane precedenti si era interessato al terzino scuola Inter piccola asta per Michele Fornasier sull'ex difensore Doriano si è fiondata la Ternana che sfida ora Lascoli Zampano è nel mirino dell'Udinese ma il Delfino chiede 2 milioni cessioni che possono ulteriormente sbloccarsi visto che in queste ore il presidente Sebastiani sta rientrando in città dopo alcuni giorni di vacanza sul fronte dell'entrata resta forte l'interesse sull'attaccante esterno del Palermo Carlos Embalo mentre si attendono sviluppi per la mezzala dell'Atalanta Matteo Pessina su cui c'è sempre la concorrenza dello Spezia ma gli orobici dopo aver preso Deron possono lasciar partire il giovane centrocampista prelevato dal Milan Scendiamo di categoria sarà Michele Di Cairano di Ariano Irpino a dirigere la partita di Coppa Italia di sabato alle 18 fra il Teramo e il Racing Fondi allo stadio Bonolis di Piano Daccio da stamani è ufficiale la cessione a titolo definitivo dell'esterno Mirko Petrella alla Triestina dopo un periodo di prova in terra giuliana Petrella ha firmato un contratto annuale con opzione per la stagione successiva il giocatore originario di Prato-La Peligna dunque lascia il Teramo dopo sei stagioni in cui ha totalizzato 170 presenze 22 reti in questa settimana peraltro il Teramo ha formalizzato due acquisti ascoltiamo uno di questi il centrocampista Kevin Varas Sì sì è molto strano perché non me lo sarei mai aspettato soprattutto visto che siamo ritrovati a difendere la categoria in due partite purtroppo è andata male nei miei confronti perché comunque ero nella squadra avversaria però adesso comunque c'è stato questo interessamento da parte della società fortemente nei miei confronti e mi ha convinto subito la scelta tecnicamente sono un giocatore rapido, veloce comunque il mio ruolo è fare la mezzalla destro, sinistra, indifferente però diciamo che quest'anno mi sono adattato a fare altri ruoli e quindi starà a decidere al mister dove quindi anche a centrocampo anche a centrocampo a due mi è capitato di fare pure il terzino e pure anche l'esterno alto senti sei originario dell'Equador esatto sentiamo un bel italiano sì sono di Brescia da Arfu Buario no non sono nato in Italia sono nato in Ecuador e all'età di 10 anni sono venuto in Italia sicuramente fare sia a livello di squadra che personale aspetto penso che sia anche una questione d'obbligo fare un campionato molto più più competitivo diciamo rispetto all'anno scorso puntare a fare qualcos'altro non arrivare a fine stagione a giocarci il campionato per non retrocedere la società comunque vuole fare un campionato di alto vertice puntare almeno i play-off quindi vediamo comunque dobbiamo partire coi piedi per terra e piano piano fare i punti adesso andiamo avanti sempre con la pagina sportiva ma cambiamo disciplina per occuparci di atletica perché si è tenuta nei giorni scorsi a Pescara la manifestazione podistica un'americana a Pescara organizzata dai runners del capoluogo adriatico ascoltiamo il presidente dell'associazione Domenico Donofrio intervistato da Paolo Sinibaldi Presidente Domenico Donofrio la crisi del settimo anno non c'è stata per l'americana no fortunatamente no fortunatamente no si è rinnovato un bellissimo appuntamento di atletica qui allo stadio di Attico c'è stata una grande partecipazione di atleti ma abbiamo notato tutti anche una grossa un grosso salto in avanti dal punto di vista qualitativo eccezionale il livello impreziosito da atleti di valore internazionale ciò vuol dire che anche runners Pescara sta diventando internazionale non lo so te lo chiedo speriamo no ma magari volete fare qualcosa di molto importante ancora di più a livello organizzativo non so come organizzazione l'americana diciamo che rispetto alla mezza maratona non la pubblicizziamo troppo fuori zona nonostante tutto vengono atleti da Milano da Roma l'anno prossimo si potrebbe pensare di cominciare anche a parlarne fuori dalla regione vedremo di portare anche personaggi ancora più forti non dimenticate mai neanche il sociale in questo caso una parte dei fondi viene devoluta a un'associazione liberamente che si occupa proprio di servizi per persone diciamo meno fortunate lo avete fatto anche in occasione della maratonina avete sempre uno sguardo rivolto anche a quello che c'è al di fuori di questa pista e della strada assolutamente assolutamente perché la squadra è nata per divertirci e non abbiamo nessun interesse di avere lucro da questo tipo di attività la nostra passione che ci unisce tutti quanti quindi quello che diciamo riusciamo a portare all'interno delle casse lo diamo tranquillamente all'AIL all'Agbe questa volta è toccata liberamente che è una situazione di Pescara che si occupa proprio di ragazzi disabili quindi per noi è un grosso fa piacere fare questo tipo di solidarietà chiudiamo un grazie a ce lo dici tu un grazie a tutti quanti i ragazzi dell'Annes Pescara quelli che hanno organizzato i ristori il pacco gara i pettorali a tutti il gruppo che con il moto stiamo uniti dimostra ogni gara che stiamo vivendo una bella realtà ed era questa l'ultima notizia per l'edizione delle 14 del TG6 io vi ringrazio per averci seguito vi ricordo che tutti i nostri servizi sono disponibili sul sito www.tv6.it e sulla nostra pagina youtube basta un clic per avere tutti i servizi a vostra disposizione ancora grazie e vi auguro una buona giornata grazie a tutti